Oh, e qui andiamo col botto, Luca, allora, un microfono a Luca, date un microfono a Luca Oh, io già sono, mi sento più a casa di prima, eh dai, siamo in famiglia, poi sono romagnolo Microfono, questo qua vediamo, eccolo Antonio Buonasera, buonasera, rifate l'applauso così, eccolo qua Anche al nostro Antonio Patanè alla regia Antonia Ciao Antonio, ciao Antonio Bene, vado via perché tanto anche te la sai la storia, allora divertitevi con Luca Allora, io ho portato una cosina, non so Vanno degli inediti, si prendono degli inediti, oppure dei progetti legati al 2017 o nel 2016 Esatto, allora, questa sera vogliamo presentare questo lavoro discografico La seconda raccolta dedicata ai successi di mio padre, Franco Bergamini Un lavoro che uscirà prima dell'estate del 2017 Diciamo che siamo andati a riscoprire i suoi grandi successi del passato E li abbiamo messi insieme in questo lavoro discografico Io qui, adesso facciamo una cosa, voglio chiamare subito i solisti che hanno veramente dato tanto per realizzazione di questo progetto E sono Federico Rosso e Clarietto Indò Vieni Fede, vieni E Giuseppe Missoni al sax, ormai un veterano dell'orchestra Bergamini 22 anni con l'orchestra Bergamini, eh? Vieni Peppe, vieni Io volevo ringraziarvi veramente pubblicamente perché hanno fatto un lavoro straordinario E poi così sarò contento di farmi ascoltare prima dell'estate Se magari qualcuno di voi venisse nelle nostre serate e acquistasse questo prodotto Un lavoro discografico veramente curato e soprattutto dedicato alla grande storia della famiglia Bergamini Allora, detto questo, vorrei qua sul palco con me e i miei ragazzi perché hanno detto Luca, voglio fare un altro applauso ai miei ragazzuoli, dai, eh? Grazie Ok, allora partiamo con questo momento dedicato alla grande tradizione Bergamini Vai ragazzi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti